Francesco, parte bene il 2024 della Carcarese, una vittoria importante, è arrivata solo in Monta, grazie alla tua doppietta. Sì, sì, siamo partiti bene, oggi abbiamo disputato una buona partita che per fortuna, poi due episodi ci sono andati a favore e abbiamo concluso la partita con 2-1 meritatamente. Nel primo tempo all'intervallo cosa avete pensato, dato che avete avuto tante occasioni e non l'avete messa dentro, l'ha messa dentro invece il legino su calcio di riguardo? Sì, il primo tempo comunque noi abbiamo giocato bene, abbiamo proposto del gioco, così le occasioni non siamo stati decisi, decisivi come il secondo tempo, però abbiamo detto, ci siamo detti, continuiamo così che poi arrivano e per fortuna sono arrivati. Sono arrivati, la tua firma, chi dedichi questa doppietta? Ma tutti, i miei compagni, la mia famiglia, la mia fidanzata. Domenica si torna al Corrent per la prima di quest'anno, un avversario importante, il Ponte Lungo. Sì, sì, noi poi di settimana in settimana prepariamo le partite, le prepariamo come tutte le altre perché tutte le partite sono importanti e poi domenica luttiamo per vincere. Complimenti in bocca al lupo. Grazie Crepi.